i remi atelier azienda specializzata nel settore cerimonia e abito da sposa da sempre veste i vostri sogni in diretta dalla suggestiva ed elegante masteria martuccio contrada martuccio mesagne daniele lupoli indossa un abito dalla linea decisamente romantica tulle in seta bianco un taglio a ruota che dona leggerezza un pizzore broderi chiamato di con cristalli e ferle incastonato nel corpino con effetto tatò donna luce delle linee al decollet creando un contrasto tra il bianco del pizzo ed il nudo della pelle daniela lupoli sexy ma con eleganza e rastinatezza irene atelier vi aspetta in via giulia farnese 10 mesagne iscriviti al canale